hai organizzato la vacanza perfetta ma non hai l'auto semplice scegli l'urenting il servizio noleggio su misura per te zero emissioni zero costi aggiuntivi e l'auto te la portiamo noi buongiorno 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 ecco le vostre chiavi e vi ho lasciato anche una lista dei migliori ristoranti in zona grazie mille passo una chiamata è pronto vorrei noleggiare una buongiorno buongiorno l'urenting to drive is to leave